Sì, perché abbiamo detto ieri che era una partita difficile, perché si chiudavano tutti dietro e non ci volevano fare una ripartenza. Abbiamo avuto le occasioni per vincere, siamo stati troppo frettolosi, un po' imprecisi. Mi spiace perché dopo l'11 luglio ci tenevamo a festeggiare il nuovo inizio con una vittoria davanti ai nostri tifosi. Portiamo a casa questo punto e poi pensiamo a domenica, adesso tutte le partite saranno da vincere. Spesso si è parlato della condizione dell'Italia a settembre, della difficoltà di ripartire dalla maledizione quasi di settembre. Per oggi non sembravate così in difficoltà dal punto di vista fisico? No, abbiamo fatto la nostra partita come intensità, come riaggressione. Abbiamo preso gol su una palla in uscita non fermata e poi nel secondo tempo non abbiamo preso un tiro in partita. Abbiamo creato 4-5 occasioni, il loro portiere era in grande condizione stasera. Però io ho visto lo spirito della stessa Italia che era l'europeo. Il risultato di stasera ci complica un po' la vita in chiave e qualificazione. C'è la Svizzera ed è la partita chiave ed è il girone. La rende ancora più difficile di mettere più pressione, Leo. Sapevamo che contro la Svizzera dovevamo vincere tutte e due le partite e così sarà. Andiamo a Svizzera per vincere e poi vedremo quando sarà il ritorno a novembre. Grazie, grazie all'alarmobono.